Minecraft lo conosciamo tutti, e un po' tutti noi abbiamo perso almeno qualche ora a costruire, mettere blocchi sopra blocchi e vedere man mano come la nostra fantasia prendeva vita. Come sarebbe poter prendere una nostra creazione, non lasciarla chiusa all'interno di un monitor e vederla in tre dimensioni, poterla toccare, poterla vedere da un punto di vista differente? Da quando la stampa 3D è divenuta realtà, si è subito mostrato uno strumento dagli usi praticamente infiniti, ma la mia attenzione è caduta proprio su un plugin prodotto da alcuni ragazzi dell'MIT, che consente di selezionare porzioni delle nostre mappe di Minecraft per poterle poi stampare. Detto così può sembrare una cosa molto semplice, ma sono tanti passi da fare e soprattutto richiedono molto tempo. C'è da dire che il punto di partenza è proprio la fantasia, anche se a dire il vero non ne abbiamo avuta tanta, o comunque avevamo paura di creare boiate, quindi ci siamo affidati alla rete per cercare un buon modello in grado di rendere bene la tecnologia dietro questo progetto. Un bel castello non troppo grande sarebbe stato l'ideale. La sfida iniziale appunto è stata quella di cercare una mappa della misura giusta, perché troppo piccola sarebbe risultata effettivamente troppo misera, troppo grande invece avrebbe compromesso la qualità della stampa. Il secondo step è stato quello di selezionare un'area che poi saremmo andati ad estrapolare dal gioco rendendola un file compatibile con la stampante. Quindi mi sono portato i due estremi che avrebbero rappresentato i limiti dell'area per piazzare dei segnalini che verranno identificati dal programma di estrazione, dove in questo caso i blocchi di diamante rappresenteranno i vertici opposti dell'area selezionata. La fase successiva non è delle più semplici, perché il tutto si compie non con un semplice programma, ma con diversi programmi che non è che siano al massimo dello user friendly. Infatti dovremmo mettere in comunicazione tra loro diversi script di python e soprattutto utilizzare dos, quindi si fa tutto a riga di comando. E chi conosce il linguaggio di programmazione python sa che a seconda di numerosi fattori cambiano le modalità di utilizzo e le componenti giuste da eseguire. Quindi dopo tanti tentativi che mi hanno ricordato molto l'università, ho creato la condizione corretta per permettere a python di elaborare l'area da me selezionata. In questo modo abbiamo ottenuto il modello che poi verrà stampato. A questo punto la palla passa a Maurizio, possessore della stampante che eseguirà il lavoro. Ma mi sono reso conto che anche lui ha avuto il suo bel da fare perché la stampa 3D non funziona in maniera diretta come siamo abituati dalla stampa 2D. Esistono dei limiti fisici che richiederanno lo studio di diversi fattori, come ad esempio la qualità di stampa in rapporto al tempo e la dimensione dei dettagli più piccoli, l'assenza di parti a sbalzo, cioè di balconate senza supporti, decidere lo spessore delle pareti esterne e la corretta percentuale di riempimento. Non dimentichiamoci che durante la stampa non sarà riprodotto solo un guscio, ma vista la natura del file prodotto in Minecraft saranno stampate all'interno del castello anche le stanze, corridoi e tutti gli elementi architettonici presenti nella struttura originale, anche se alla fine non saranno visibili. Questo livello di dettaglio rende necessario un controllo preciso di ogni parte del castello. Quindi dopo una prima verifica è toccato riprendere in mano Minecraft e correggere qualche piccolo elemento per agevolare il percorso di stampa. Le bandierine sulle torri sono state semplificate, le luci sul ponte sono state rimodellate e soprattutto le stanze più grandi hanno avuto bisogno di qualche supporto extra per poter rendere solida e precisa la struttura. Per la prima volta mi sono emozionato al pensiero che sto modificando una struttura di Minecraft in maniera tale che possa resistere nella sua versione fisica. Grazie a questi accorgimenti e all'utilizzo di strutture di supporto rimovibili è stato possibile, dopo un paio di stampe di prova in scala, passare alla stampa del castello definitivo, di cui potete trovare un video timelapse dell'intero ciclo di stampa cliccando qui o andando in descrizione. Quindi dopo aver verificato il modello è il momento del software di slicing, il cui compito è quello di trasformare il modello 3D virtuale in precise coordinate geometriche per la stampante, in modo tale che la testina depositi la plastica nel posto giusto al momento giusto. Questo, nel nostro caso lunghissimo set di coordinate, viene trasferito su una scheda SD che inserita nella stampante eviterà di dover tenere acceso il pc per tutto il tempo della stampa, che nel nostro caso ammonta a ben 48 ore. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ed ecco finalmente come i cubi di Minecraft hanno preso vita e finalmente sono tangibili. Solo che a questo punto si dovrà ripulire il modello da quei piccoli pelucchietti prodotti dalla fase di stampa. Questo difetto viene chiamato stringing ed in questo caso è molto evidente, poiché l'estrusore della stampante iniziava a logorarsi, infatti dopo la stampa del castello è stato sostituito. Inoltre è stato necessario pulire le strutture di supporto che sono servite a sostenere le parti sospese del castello, la più importante, come si può notare, il ponte che collega le torri. A questo punto l'operazione più delicata è completata, ma un ultimo momento di tensione ed altrettanto delicato è stato il momento in cui si doveva rimuovere il castello dalla base della stampante, il che ha richiesto nervi di ferro, mani vellutate, acqua calda, ma anche qualche colpo di raschietto non ha fatto male. Adesso invece si passa alla pulizia fine e soprattutto all'estetica. Il castello ora passa nelle mani di Jack, che con pazienza ha terminato la lunga pulizia da tutte le piccole sbavature prodotte in fase di stampa e quindi è passato a verniciare il modello. Per fortuna in questo caso non erano presenti troppi colori, ma è stato comunque un lavoro di grande pazienza riuscire a infilarsi in ogni anfratto del lato esterno del castello. Sono passati diversi giorni tra colore, aerografo, pennello, dettagli e attese tra un'asciugatura e l'altra. Nel frattempo io e Maurizio non siamo rimasti con le mani in mano, ci siamo procurati una basetta di legno su misura, su cui poi verrà incollato il modello una volta terminato. Non saremo artisti come Jack, ma quantomeno siamo stati bene o male in grado di dare un po' di colore anche noi. Dopo un paio di giorni tra colori e componenti lasciati ad asciugare, arriviamo al capitolo finale, dove assembleremo tutto. Il castello è finalmente completo, pronto e bellissimo. Tutto quel che abbiamo fatto è stato applicare i soliti feltrini avanzati da Build Your Pad precedente sotto la base di legno e quindi prendere i riferimenti per applicare la colla che terrà ben saldo il castello alla sua sede. E per finire, come una ciliegina sulla torta, ogni opera che si rispetti ha bisogno dei giusti freggi che valorizzino questa piccola grande impresa. Ovviamente tutto frutto di un'altra stampa in 3D. Adesso abbiamo dunque centrato l'obiettivo primario dell'operazione, portare una creazione di Minecraft direttamente sulla nostra scrivania. Perché vedere la nostra creatura prendere vita e occupare dello spazio reale fa davvero molto effetto. I dettagli, le forme, quei tanti cubetti che abbiamo tutti maneggiato in un gioco ora sono lì. E mi emoziona anche pensare che nonostante siano invisibili, all'interno del castello sono presenti le strutture interne complete, fatte di corridoi, stanze, scale, saloni, portici e anche finestre. E' bello pensare che anche se non li vediamo sono lì e sono perfettamente fedeli a come li abbiamo creati su Minecraft. Fa quasi rimpiangere il film Mamma mi si sono ristretti i ragazzi. Chi se lo ricorda? Fatemi sapere se questo progetto vi è piaciuto e cosa pensate del progresso costante della stampa 3D che in un certo qual modo sta rivoluzionando l'approccio verso la produzione di oggetti, piccoli in questo caso, ma anche più importanti e innovativi. Inoltre fateci anche sapere se volete che compaia questa sezione sul sito di Parliamo di Videogiochi. Non si sa mai che a qualcuno interessi vedere le proprie creazioni prendere forma. Per oggi da Fraus, Maurizio e Jack è tutto, ci rivediamo al prossimo video! Grazie a tutti! Che la stortaggine sia con te. Non dire che c'è con Davide!